Quando mi faccia la realtà, perché quando è dura, sarà sfortuna, quando mi faccia la realtà, è più sicura, quando mi faccia la realtà, è più dura. Se c'è qualcosa che mi ha fatto, chi guarda l'unità, o se mi guarda l'unità, è più dura, è più dura. Chi guarda l'unità, quando mi faccia, quando mi parli, se sei sincera, se non mi guardi quando mi parli, non sei sicura, la voglia di fare. Ma ci guarda l'unità, senza matura, la chiamiamo sfortuna. Maledetta soltura 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 Maledetta soltura